Ciao Antonio, volevo chiederti da quando hai iniziato a occuparti di Tavi, come sei entrato nel mondo trans-catetere? Grazie per la domanda, sostanzialmente tanti anni fa mi avevano accennato di questa tecnica che stava partendo, allora anche grazie un po' all'intuito del mio capo, dottor Troise, siamo andati a Nyon, che era un po' la sede della Edwards, dove abbiamo cominciato a fare questi corsi. Poi da là è partito tutto, inizialmente abbiamo fatto insieme agli emodinamisti le prime procedure transapicali, poi siamo passati al transfemorale, poi piano piano abbiamo implementato la cosa coinvolgendo altri emodinamisti, coinvolgendo anche altre società, quindi utilizzando più protesi, tutte le protesi sostanzialmente dello spettro disponibili e da allora lavoriamo one to one, quindi insieme, per cui se c'è un problema sulle coronarie abbiamo a fianco l'emodinamista che cerca di risolvere, se ci sono problemi sugli accessi vascolari, insomma ce ne occupiamo noi. In questo modo abbiamo impiantato ormai più di 1500 TAVI in poliambulanza, che è l'ospedale dove lavoro a Brescia e sostanzialmente insomma sono abbastanza contento. Questo non ho messo da parte la chirurgia, anzi si sommano le due cose, però insomma sono contento perché comunque i risultati sono ottimi, vedremo in futuro se far crescere altri cardiochirurghi in questo ambito oppure dedicarsi prevalentemente ancora alla chirurgia. E secondo te quanto è importante avere un background cardiochirurgico per approcciarsi al mondo transcatetere? Beh, credo che sia importante perché comunque prima di fare transcatetere facevamo le sostituzioni, facevo, faccio tuttora le sostituzioni chirurgiche, quindi il chirurgo conosce perfettamente l'anatomia morfofunzionale della radice aortica, quindi dove si possono trovare le maggiori calcificazioni, dove è presente il fascio e quindi dove ci può essere un maggior rischio di blocco atrioventricolare, insomma abbiamo messo per anni mano alla valvola aortica, quindi anche tridimensionalmente riusciamo a immaginarcela un po' meglio rispetto ad altri colleghi. Ecco, però è chiaro che a questa cosa va aggiunta anche l'esperienza che hanno i colleghi emodinamisti con tutto ciò che è angiografia, con tutto ciò che è utilizzo di materiali self-expandable o balloon-expandable. Quindi nel vostro centro c'è una cooperazione molto stretta da quello che ho capito con i cardiologi, tutti i pazienti vengono quindi valutati in Artim collegialmente? Sì, diciamo che il paziente viene valutato in Artim, anzi più che Artim, da noi si chiama Val Team, fa parte del Val Center che è un po' questo progetto che c'è stato in poliambulanza e che è un progetto che è nato diciamo sottospinta prevalentemente sempre delle responsabili della cardiochirurgia per cercare di dare un taglio più legato alla patologia più che alla tipologia di valvola. Ecco, quindi vengono discusse anche le valvole o comunque le patologie valvolari che poi vanno a chirurgia. Quindi nel Val Center vengono discusse tutte le patologie valvolari, patologia mitralica, patologia aortica, patologia tricuspidalica e poi si decide se andare a chirurgia o andare a terapia transcatetere. E credo che questo sia diciamo l'obiettivo principale perché consente di avere quella che viene chiamata terapia sartoriale sul paziente. Quindi per ogni singolo paziente cerchiamo di trovare la soluzione terapeutica migliore e diciamo dargli il minore rischio possibile. Che era quello di cui parlavi nella tua presentazione sentita poco fa. Sì, esatto, esatto. E nell'ambito di questa discussione multidisciplinare sono coinvolte anche altre figure come può essere il radiologo che ha eseguito la TAC, il cardiologo insomma clinico. Allora abbiamo sicuramente abbiamo un patient care organizer che è diciamo una figura amministrativa che si occupa delle prenotazioni delle TAC, della gestione degli appuntamenti che avrà il paziente durante il suo iter terapeutico, abbiamo la presenza del cardiologo clinico, abbiamo la presenza del cardiologo ecocardiografista, abbiamo la presenza a volte anche del geriatra, dipende insomma un po' anche dalla tipologia di discussione che viene intavolata e poi sì c'è presente sempre il cardiochirurgo, diversi emodinamisti, più cardiochirurghi anzi perché insomma non sono da solo, ci sono anche gli altri miei colleghi. Tutto questo fa sì che ci sia una discussione multidisciplinare ma aiuta anche il paziente perché il paziente non deve andare a fare la visita un giorno dal cardiologo, un giorno dal geriatra, un giorno dal chirurgo vascolare, viene discusso tutto in una giornata e questo sia a favore molto sia del paziente ma anche soprattutto anche dal punto di vista economico, adesso che parliamo di economia sicuramente costa meno un'unica consulenza multidisciplinare piuttosto che varie consulenze sia per il paziente ma anche per l'ospedale, dal punto di vista di tempistica, logistica e tutto il resto. Ti ringrazio, mi sembra un'organizzazione assolutamente ben studiata e ben rodata che sicuramente ha dato un contributo a dare degli ottimi risultati e una mole così importante di pazienti come i vostri. Guarda io mi auguro che questo setup venga diffuso anche negli altri ospedali perché noi ci stiamo trovando benissimo e credo che anche i pazienti insomma abbiano un feedback importante. Ti ringrazio per l'interessamento, ciao!